Ciao! Il Cantiniere, oltre ad essere una delle noteche più grandi d'Italia, è anche ristorante per gli amanti della buona cucina, dove gustare sorprendenti taglieri di salumi e formaggi ed invengersi in un percorso non gastronomico assaporando diverse varietà di carne pregiate e piatti a base di pesce. A pranzo, il menù pausa pranzo offre un buffet libero con piatti unici, caldi e freddi, accompagnati da un calice di vino o una vivida narcolica a vostra scelta. Tutto questo lo troverai anche su scontorne.it. Per questo vi aspettiamo a Catania in Viale Libertà 153. Ciao!